musica 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 peccato che il match up sia una merda perché lo outrange totalmente non può fare nulla o sicuro un pochino con la palla magica back here up smash bellissimo questa è da clip a pay utilizzare qui la piattaforma per ritornare e tra l'altro per caricare parecchio del suo limit break napoli domani contro il cagliari ma non ci credo evita la presa di diddy prova una pivot grab che non va però questa dash grab entra c'è il tech da parte di didina ma non si salva nemmeno un po' partono gli uptilti feire riesce a chiuderla con questa fantastica combo il vincitore del jupiter 3 3 2 1 via inizia il match e inizia i pare quindi non credo a meno che non fosse già in profondità oh bellissimo ha preso il side b ora avrà usato il salto fis no è tornato oh no oh no oh no doveva finirla in maniera un po' più dignitosa un vero peccato un vero peccato ecco qua parte la meteora e ci saluta ragazzi 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 ma cosa ragazzi ragazzi clippate subito stock sbagliato ah finalmente da una beccata partita non lo so bello ma chi è blu link c'è il rage quando c'è il rage c'è tutto 73 ce la può fare e ce la fa che come back su bundle field se per iniziare il reset dalla piattaforma più alta muori prestissimo uuuu lo ha letto malissimo e arriva un buon upsmack attenzione triplofeira ancora il bouncing fish cosa gli ha fatto è finita è finita allora signori game numero 4 siamo a dream madoo 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 che muro che gli ha fatto l'ho visto gimpato da uno a da uno ha gimpato quanto l'ha gimpato ah niente jv3 il sogno del jv3 non non viene realizzato intanto parte da un tilt ancora da un tilt mio dio lo sta veramente massacrando ancora da un tilt da un smash e ancora da un smash tsurugi distrutto che è bello